Il fabula docet che traiamo dall'opera di Dostoevsky, segnatamente da delitto e castigo, è che la morte di Dio non favorisce il potenziamento della vita, dei valori, non produce quello che sperava Nietzsche. Trapassa invece senza soluzione di continuità nella morte dell'uomo stesso, nella schiavitù più radicale. Forse è anche per questo che possiamo dire che nel nostro occidente alla morte di Dio non si accompagna una crescita di libertà, anzi si accompagna quel fetore di morte che Dostoevsky, Docet, è conseguenza del nichilismo della morte di Dio. L'odore della morte o di una vita ridotta a semplice funzione del morto sembra essere una delle cifre dell'Occidente contemporaneo. I morti dominano i vivi, le cose valorizzate signoreggiano sugli esseri umani, vi è un'ostilità generale verso la procreazione e i legami stabili vitali come la famiglia. La natalità è calante ovunque in Occidente. L'odore di morte che esala dall'Occidente scristianizzato emerge anche dalla sempre più in voga tendenza a disfarsi agilmente di ogni corpo che non sia immediatamente inserito nei circuiti del valore e della prestazione. La desacralizzazione della vita è conseguenza diretta della dissacrazione del mondo. Possiamo dire che per l'uomo religioso, quale che sia la sua religione in verità, tanto la comparsa della vita quanto la sua fine sono un mistero sacro. Per l'uomo vacuus post-religioso in balia della morte di Dio e del nichilismo, la genesi della vita come la sua scomparsa sono elementi indifferenti, vissuti magari come un impaccio che paralizza e rallenta il produttivismo. Pensate al caso della natalità ovunque riscontrabile in Europa, che il calo di natalità ovunque riscontrabile in Europa è la prova di una sorta di considerazione della vita come superflua, come ostacolo magari per la carriera. Ma pensate anche per la morte. La morte è uno scandalo dal punto di vista capitalistico e non è più un mistero, uno scandalo da che è ciò che interrompe definitivamente il ciclo di consumo delle merci o talvolta la morte viene vissuta come la necessità per i corpi inutili dal punto di vista della società dell'efficientismo indefesso.